E' dotata di 49 seggiolini triposto, consente di arrivare a quota 1468 metri in tre minuti e parte ad un centinaio di metri dal rifugio delle Cotaline. E' la nuova seggiovia che va a sostituire il vecchio ski lift inaugurata ieri mattina sul Monte Catria. Il taglio del nastro si è svolto alla presenza del Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, del Vice Presidente del Consiglio regionale Renato Claudio Minardi, della Presidente della provincia di Pesaro Urbino Daniele Tagliolini, del Sindaco di Frontone Francesco Passetti e dei responsabili della società che gestisce l'impianto. Presidente, la Regione ci ha creduto fin dall'inizio in questo progetto, ma di che contributo parliamo? Parliamo di oltre mezzo milione di euro, ma parliamo soprattutto di un'idea, di un progetto per la montagna. Questi impianti sono importanti di per sé perché ovviamente qualificano, rendono il trasporto più agile, più veloce sia per gli sciatori d'inverno che per gli escursionisti d'estate o chi porta addirittura la propria bicicletta per il mountain bike. Ma in generale è un grande progetto per la montagna. Attraverso questi investimenti si creano posti di lavoro, occupazione, sviluppo per tutto il comprensorio, si affianca alla mano pubblica e alla mano privata che qui ha investito tanto. L'infrastruttura a servizio del comprensorio sciistico ha l'obiettivo di rendere più agevole e veloce l'accesso ai quasi 5 chilometri di piste disponibili sul Catria. Potrà trasportare 1800 persone all'ora ed è munita di tappeto d'imbarco, chiamato anche tappi roulant, per aumentare il comfort dei passeggeri. Noi siamo passati da circa 4-6 addetti del 2010 a 32 addetti attualmente con la stagione invernale estiva. E avete appunto quindi aumentato il periodo di apertura? Sì certo, siamo passati da 60-70 giorni massimo annui che si distribuivano non più di tre mesi a 250 giorni per 12 mesi all'anno perché chiaramente con forti investimenti che abbiamo fatto anche per il settore estivo, il bike park, il parco avventura estivo, i sentieri di trekking. Abbiamo la pista di downhill discesa in bicicletta più lunga degli Apennini. Abbiamo ospitato già due volte i campionati regionali e per il 2020 ci siamo prefissati di fare una tappa del campionato italiano. La seggiovia, ha dichiarato Minardi, è frutto di un lavoro di squadra, una collaborazione che ha portato ad ottenere degli ottimi risultati. Non grazie va non solo alla parte pubblica ma anche alla parte privata perché come dico c'è senza un progetto e senza anche investimenti privati questo non sarebbe stato possibile. Naturalmente la parte prevalente l'ha fatta la parte pubblica, la regione Marche, ci abbiamo creduto ma credo che insieme abbiamo fatto un ottimo lavoro per il territorio, per il Catria e per tutto il compressorio che gravita intorno al monte. Complimenti a tutti, il Monte Catria vi aspetta. Ciao. 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 Ciao.